L'amministratore unico del Marsala Calcio, Garbi, o forse potremmo chiamarlo anche l'ex amministratore unico, anche se formalmente ancora lo è, ha lasciato la città di Marsala lunedì dopo quel comunicato in cui si scagliava un po' contro quanti al suo dire hanno remato contro al suo progetto, noi ci limitiamo al dato oggettivo, da agosto dell'anno scorso Garbi si è presentato a Marsala dicendo che sarebbero arrivati dopo qualche mese ingenti somme di sponsorizzazioni da parte di imprenditori arabi, questi fondi non sono mai arrivati, Garbi ha tamponato con delle proprie esposizioni al procedimento del campionato, però se la pandemia non avesse interrotto i vari tornei dilettantistici probabilmente Garbi non avrebbe avuto le forze economiche per continuare, la squadra che aveva messo in piedi era molto giovane, soltanto qualche anziano, quindi una squadra raccogliticcia soltanto per ben figurare nel campionato, poi c'erano tutte le difficoltà oggettive legate ai debiti, alle vertenze che arrivavano, ma queste erano cose che bene o male già si conoscevano, quindi il destino del Marsala Calcio mai pare segnato, crediamo difficile che questa società possa avere sbocchi futuri e già l'assessore allo sport si sta guardando attorno per vedere se ci sono delle soluzioni alternative affinché Marsala non rimanga senza calcio, probabilmente Garbi prima di lasciare definitivamente Marsala, l'ha già fatto fisicamente, manderà un altro comunicato con altre sue precisazioni.